Buonasera, buonasera, un risultato molto al di sopra delle aspettative? Quello che ci aspettavamo, non tanto al di sopra delle aspettative, comunque è un risultato solido che si va consolidando man mano che passano le ore e certamente ci riempie di orgoglio ma anche di responsabilità, la situazione è quella che è, dovremmo lavorare sodo per riportare su questo paese, nel senso letterale, farlo rialzare come era nel nostro slogan. Qual è l'eredità più pesante che vi troverete? La situazione economica soprattutto, che è quella che ci preoccupa maggiormente, abbiamo buone idee per rilanciare l'economia, riavviare lo sviluppo, riavviare le grandi opere, dare più soldi alle famiglie per poter riprendere la loro qualità della vita, aumentare i consumi, la produzione. La nostra ricetta classica che ovviamente va aggiornata e ulteriormente rafforzata da questa situazione. Questa ampia maggioranza alimenta anche aspettative di grandi riforme? Cercheremo di non deludere nessuno come nella nostra buona abitudine, lavoreremo sodo. Grazie.